Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L'amore sboccia tra gossip e critiche. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno facendo parlare di sé. I due sono stati paparazzati insieme in compagnia dei loro figli, dando vita a un quadretto da famiglia allargata. Ma non è tutto rose e fiori. Sembra che l'annuncio imminente di un anello di fidanzamento abbia scatenato le critiche dei genitori di lui. La relazione tra la famosa influencer e il rampollo di casa Pirelli sembra procedere a gonfie vele. Si mormora che Tronchetti Provera stia per ufficializzare la loro storia con un meraviglioso anello per Chiara. Secondo indiscrezioni il giovane avrebbe già ordinato un anello di svariati carati che lascerà la Ferragni senza fiato. Tuttavia non tutti sembrano approvare questa unione. I genitori di Giovanni, Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, sembrano guardare con sospetto alla relazione del figlio con Chiara. Il passato della Ferragni nel mondo del rap milanese, avendo avuto Fedez come marito, e i recenti problemi giudiziari non sono passati inosservati. Nonostante le critiche e le perplessità, l'amore tra Chiara e Giovanni sembra destinato a trionfare. Sebbene la famiglia di lui non sembri entusiasta della relazione, i due sembrano determinati a seguire il proprio cuore. Resta da vedere come evolverà questa storia tra gossip, critiche e una... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!